ben ragazzi cari come mai da news gamer oggi ragazzi siamo qui con napoli sampdoria una partita dalla valenza incredibile anche perché c'è ragazzi magari quagliarella ecco oggi fa il gol dell'ex è importante anche perché comunque c'è quagliarella che poi infatti può battere il record di party studio tipo magari lo dice col consecutivo speriamo di no almeno questa volta fa non siamo andate allo stadio perché l'anniversario di micro la sua fidanzata in questo è il suo messaggio bene ragazzi mi dispiace non essere lì fisicamente anche se mi occorre da una parte sarà impegnato dall'altra parte sarà lì con voi con napoli e per questo non siamo andate allo stato perché non c'era non ci avevamo chi ci riprendeva insomma vabbè il trio non era unito ecco infatti abbia comunque però speriamo che dopo tutto questo periodo buio di portare dei tre punti a casa e si guarda la verità gente che si deve riscattare tipo lui tipo lui e lui no comincia la partita avanti napoli dai napoli vediamoci sto primo secondo posto dai guai d'acqua che squadra non è un po' di più per due minuti almeno faccio esultare per un po' di napoli come si dice e si chi è piontek eh si è uguale con il numero di milic milic Mele Mele Non l'ha tenuto quello la, dai E' bello Milik Al Fanta, dai Beh Ma la diciamo è più forte in Italia L'OLEZO L'OLEZO Ma mamma Ma mamma Ma mamma 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 Godo Ma che cazzo E' Napoli I più forti d'Italia siamo noi E siamo noi Siamo noi I più belli di gioco d'Italia l'abbiamo noi Bah Autero Perché c'è Carletto Perché è napolitana con Manuio Tutto si fa buono a Napoli BAM Ma no Mannaggia Belli più tre Ma che era? Vail ha il tempio del dopo Mannaggia Bello più tre Max 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 Sì Ma Sì Ma Sì 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 Ma Sì 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 Ma Sì Ma Comunque ha fatto qualche tiraccio Ho raramente Secondo tempo Dai Ok Comincio il secondo tempo Forza ragazzi Noi ci crediamo Ooooo 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 O' Ooooo O O O O O O O mannano esplodeva la stadia ma mi spogliavo io ma ricorda scusa ma che ricorda questo è ricorda ricorda questo è ricorda questo l'ho visto subito dentro, dentro, Tatino l'ha detto ma cosa? si vede che ricorda dentro e dentro Tatino sei onestissimo bravo, Tatino Simone grande Simu vai bene, vi come verdi e come vittoria verde e speranza ah porca ok raga è finita grande dai, tre punti d'oro quindi stasera c'è la Juve ci sarà l'action su carità di Tatino vediamo cosa combina stasera la Juve lasciando un mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale salutate ragazzi, noi ci vediamo nel prossimo video bella ragazzi povero coiarella ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti